Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Questo è il luogo più isolato, remoto e inospitale che possiamo trovare sul pianeta Terra. Questo è l'Antartide. Io ho trascorso qua un anno, da novembre 2018 a novembre 2019. Ero qua per lavoro, ma è stata un'esperienza con i suoi lati positivi e negativi che mi ha permesso di reagire, di capire quanto l'uomo sia piccolo rispetto alla natura, di quanto sia importante fare le rete tra di noi e sia importante reagire per migliorare le nostre condizioni di vita. Io ho trascorso il mio anno a Concordia. è una stazione italo-francese gestita dal PNRA e dall'IPEV, la quale è collocata a più di mille chilometri dalla costa e a 3.000 metri sul livello del mare. Essa è stata costruita ai inizi degli anni 2000 e ovviamente al suo interno ha tutto il necessario per sopravvivere. Quindi l'ospedale, la zona radio per le comunicazioni, il ristorante e la zona tecnica per riscaldamento e acqua. vivere qua significa affrontare dei problemi, ad esempio fisici, pensiamo che non c'è alternanza giorno-notte. L'altitudine significa carenza di ossigeno, significa anche aria secca qua, ma soprattutto ovviamente il freddo. D'estate, da novembre quindi a febbraio, le temperature hanno una media all'incirca di meno 25. Nel periodo di Natale 2018 abbiamo avuto un record di caldo di meno 14.7. D'inverno invece, da febbraio a novembre, le temperature scendono anche fino ai meno 80, la media più o meno è meno 60. Io ho potuto sperimentare meno 83 misurati e meno 104 percepiti. Quindi ovviamente quando usciamo siamo dei pupazzi irriconoscibili, abbiamo vari strati di abbigliamento tecnico e possiamo impiegare anche cinque minuti per vestirci. Questa foto è stata presa dopo pochi minuti in cui avevo scoperto gli occhi e sono stati sufficienti perché le ciglia gelassero, si appiccicassero tra di loro e la pelle iniziasse a bruciare. Altri problemi sono ad esempio problemi psicologici come la lontananza da casa. Io ero lontana a 15.000 km dalla mia famiglia e è impossibile tornare durante questo anno. Ma soprattutto la convivenza. Un po' abbiamo sperimentato la convivenza durante il lockdown, quindi pensate questo luogo in 60-70 persone d'estate. D'inverno invece rimaniamo per nove mesi in 13. Quindi un gruppo ristretto, quasi una famiglia, in cui però dobbiamo ricreare delle regole per convivere pacificamente. E quindi oltre al lavoro è importante avere anche dei momenti di svago. Questi momenti ci fanno un po' ricordare quella che per voi è la vita di tutti i giorni e noi perdiamo invece questa normalità. Uno dei momenti erano le guide al simulatore della Soyuz che in realtà è la navicella che trasporta gli astronauti dalla Terra alla Stazione Spaziale Internazionale. L'Agenzia Spaziale Europea ha questo simulatore a Concordia per studiare come il nostro cervello e i nostri muscoli cambiano e reagiscono durante il periodo di isolamento. Per noi era diventato come giocare a dei videogame. Altri momenti di svago che permettono anche di fare team in realtà sono ad esempio i momenti in cucina, la palestra, le pulizie della stazione e il mio momento preferito quando abbiamo girato un film per l'Antarctic Winter Film Festival in cui abbiamo fatto una parodia antartica di Colmimebi delle Cirlide di Miami. E poi l'ultimo che non è stato in realtà un momento di divertimento in cui il cuoco ad aprile ci ricorda che questo è l'ultimo cartone di latte e non l'avremmo rivisto fino a novembre. Ma perché ero là? Ero là per lavorare, ovviamente. Ero il primo anello di questa lunga catena che è la ricerca per il cambiamento climatico. Ero là per raccogliere campioni di neve in superficie e in profondità fino a un metro e per raccogliere campioni di particolato atmosferico su appositi filtri. Ma perché è importante fare questo? Questo significa studiare l'aria. Ed è importante studiare l'aria perché la respiriamo e perché essa dipende da noi. L'aria, anche se non lo vediamo occhio nudo, è composta da Degas, l'ossigeno ovviamente, anidride carbonica, altri. È composta anche da il particolato atmosferico, quindi particelle solide come il PM10 e questi hanno una concentrazione naturale e sono in equilibrio tra di loro. Equilibrio molto delicato che noi possiamo e stiamo alterando introducendo e emettendo sostanze. La sostanza più famosa di cui parliamo sempre è l'anidride carbonica. Quindi, immettendo grandi concentrazioni di anidride carbonica, provochiamo l'effetto Serra, che ha come conseguenza principale quella dell'aumento delle temperature. Ma, a questo punto, vi chiedete perché andiamo in Antartide? Perché così lontano? Perché là, con i campioni che raccogliamo adesso, capiamo se l'inquinamento che produciamo noi, nei nostri continenti, riesce ad arrivare fin là. L'Antartide è un laboratorio all'aria aperta, il continente più isolato, e quindi è importante capire se e come il nostro inquinamento arriva. Ma, soprattutto, è fondamentale perché possiamo studiare il clima del passato. Cioè, possiamo avere informazioni sulla composizione atmosferica e le condizioni climatiche fino a migliaia o addirittura un milione di anni fa. Questo si fa tramite carotaggi. Carotaggio significa prelevare dal ghiacciaio una carota, quindi un cilindro di ghiaccio, all'interno del quale possiamo trovare quei gas e quel particolato atmosferico che dicevamo prima, perché esiste uno scambio tra l'aria e la neve superficiale e quindi questi rimangono intrappolati nel ghiaccio che si forma poi a partire da questa neve. Uno dei progetti più importanti, che è stato fatto proprio a Concordia, è EPICA. Progetto che ha previsto il carotaggio fino a 3.000 metri di profondità e che ha permesso di studiare il clima fino a 800.000 anni fa. Questo è un grafico che è stato prodotto poi dalle analisi della carota, il quale fa vedere appunto come in questi 800.000 anni la temperatura e la concentrazione di anidride carbonica siano cambiati nel tempo e sono stati individuati 8 cicli glaciali e interglaciali, cioè 8 cicli in cui la temperatura, come possiamo vedere, si alza e si abbassa di molto, ma le cause sono naturali. Le teorie di queste cause, ad esempio, riguardano la teoria della tettonica Placke o dell'inclinazione dell'asse terrestre rispetto alla radiazione solare. E vediamo che comunque l'andamento è un andamento ciclico appunto. Da notare è importante il valore massimo della CO2 che è di 300 parti per milione, quindi per cause naturali, in un periodo interglaciale che è un periodo che stiamo vivendo anche noi. Questo è importante perché questi dati vecchi, prima dell'uomo, li possiamo confrontare con i dati di oggi per capire cosa sta succedendo. Questo è un grafico che è sul sito della NASA pubblico che ci fa vedere come giorno per giorno aumenta la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. Quest'anno abbiamo già raggiunto 420 parti per milioni, cioè abbiamo già superato il massimo causato da cause naturali. e lo abbiamo superato in decenni, non in centinaia, non in migliaia di anni. Così la temperatura, siamo a più un grado. Il valore soglia di pericolo è posto a più un grado e mezzo. è il valore oltre il quale la comunità scientifica prevede che le condizioni di vita per l'uomo diventino quasi invivibili, temperature che continuano a crescere e sia molto molto più complicato di adesso cambiare rotta e bloccare questo riscaldamento. Quindi a questo punto voi giustamente potreste dire quindi, e io? Beh, e io e noi innanzitutto siamo attori attivi nella causa, in ciò che provoca il cambiamento climatico, ma siamo anche le vittime delle conseguenze. Nessuno di noi ovviamente è escluso dalle conseguenze del cambiamento climatico. Conseguenze che riguardano, questi sono solo alcuni dei settori, ma ad esempio appunto pensiamo alla salute umana. Comunque noi l'aria la respiriamo, entra nel nostro sistema respiratorio. Questo vuol dire che se sono presenti molecole pericolose, possono causarci malattie, a partire anche dall'asma e da allergie. Pensiamo che la natura è resiliente. Gli antibiotici su alcuni batteri non funzionano più. I batteri sono diventati antibiotico resistenti. I virus sono in grado di adattarsi, quindi possono causare malattie che è difficile affrontare. La malnutrizione, la povertà, migrazioni, ovviamente per cercare condizioni migliori. Quindi problemi politici, problemi di aiuti umanitari. Lo scioglimento dei ghiacci nell'Artico è quello che comunque viene discusso più frequentemente. È un problema enorme sia per gli animali che per le popolazioni dell'Artico, ma anche dal punto di vista economico e commerciale. Scioglimento dei ghiacciai anche nelle Alpi, che ha come una delle cause principali l'innalzamento del livello del mare, perché questo ghiaccio sciolto deve andare da qualche parte. Poi alte temperature causano desertificazione, quindi perdiamo terreno, non possiamo coltivarlo, perdiamo quindi una risorsa di cibo. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Reagire. Questa è la foto che per me rappresenta la mia reazione personale in Antartide. Mi piace associare una citazione di un libro di Neuacco che parla del silenzio, perché in questo luogo il silenzio è quasi assordante, senti solo il tuo respiro e il tuo cuore. E in questo passo Neuacco dice il cielo e la terra si mescolavano, il deserto fa questo, ci pone davanti ai nostri pensieri più intimi e sembra sussurrarci all'orecchio, conosci te stesso. Ed è quello che succede, hai molto tempo da trascorrere con te e quindi io sono riuscita a capire nel bene e nel male le mie debolezze, i miei punti di forza. Sono anche riuscita a capire appunto quanto l'uomo sia piccolo rispetto alla natura, ma quanto male e quindi anche quanto bene possa fargli e quanto sia importante fare rete sociale, sia per la vita di tutti i giorni, quindi le amicizie o la famiglia, sia però anche stare insieme per reagire, aiutarci l'un l'altro per migliorare le nostre condizioni di vita. E qui quindi poi si passa a un react professionale che parte dal voler divulgare, dal voler aiutare le persone a capire, a interessarsi e a reagire. Soprattutto con le scuole, con i bambini, perché comunque loro saranno gli attori del domani ed è giusto lasciare alle future generazioni una terra vivibile. Il progetto a cui tengo particolarmente è stato fatto con una scuola elementare del mio paese. Ho incontrato i bambini prima di partire quando sono tornata a gennaio e li ho contattati poi durante l'anno a distanza ed è stato importante appunto incuriosirgli alla scienza, all'ambiente, spiegargli cosa stesse succedendo e fare in modo appunto che sin da piccoli si attivino. A questo poi si associa un react della vita quotidiana, che è quello che tutti noi dovremmo avere. È basilare, chiamiamolo così. Quindi fare attenzione a cosa mangiamo, seguire la stagionalità della frutta e della verdura o del pesce anche, stare attenti alla fonte da cui prendiamo il nostro cibo, stare attenti agli imballaggi, ridurli, evitare l'eccessivo consumismo, ridurre il consumo di plastica, usare prodotti per la persona e l'ambiente che siano più sostenibili possibili. È difficile, anch'io ho difficoltà e ne sono straconvinta di quello che faccio, ma difficile non significa impossibile. E non pensate che siete uno tra tanti, perché se ci sommiamo siamo una comunità e dobbiamo agire come tale. E sì, vabbè, i grandi cambiamenti devono provenire dalle politiche, quindi l'energia, le aziende, gli allevamenti intensivi, ma noi dobbiamo mostrare che tipo di società vogliamo, che tipo di vita sostenibile vogliamo. Dobbiamo dare l'esempio. Questo perché ci dobbiamo ricordare due cose fondamentali. La prima è che la natura è resiliente, si adatta, cambia, sopravvive anche all'uomo. La seconda, come ha detto Parmitano, è che la cosa più fragile siamo noi uomini. Grazie.